Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Fuori dalla casa del grande fratello è arrivata una notizia nei confronti di Monia, che non è affatto buona. Possiamo subito dirvi in anticipo che lei non è a conoscenza di questi dettagli, essendo ovviamente rinchiusa nel reality show, ma i suoi fan hanno appreso con sgomento questa informazione. E si spera che questa situazione possa essere smentita al più presto. Eppure ciò che è emerso, come riportato dal sito Blasting News, potrebbe rappresentare una vera condanna per la concorrente del grande fratello. Monia è stata travolta da una news negativa, che comunque non coinvolge solamente lei ma anche un suo compagno di avventura. Altri invece possono rimanere sereni perché dovrebbero ricevere delle rassicurazioni. In queste ore è stato effettuato un sondaggio all'esterno del grande fratello, i cui risultati sono stati svelati da Blasting News. E proprio Monia è coinvolta negativamente da questi dati, che invece premiano altri coinquilini. Infatti, in prima posizione troviamo Sergio, abile ad ottenere il 33% delle preferenze del pubblico. Quindi, lui potrebbe dormire sonni tranquilli. Si tratta del sondaggio di Grande Fratello.forumfree su coloro che rischiano maggiormente di andare via tramite televoto. Al secondo posto tra chi è in nomination abbiamo Perla col 20% dei voti e se la passa bene pure Fiordaliso col 15%. Nessun problema all'orizzonte nemmeno per Stefano, che è il 13%, mentre Monia e Federico rischierebbero davvero grosso. Infatti, Monia e Federico sono coloro che hanno totalizzato meno voti dai telespettatori e quindi potrebbe esserci un ballottaggio tra di loro per stabilire chi sarà eliminato e chi continuerà il percorso al GF. Poi c'è la questione di Vittorio che sta facendo discutere, infatti Beatrice a tal proposito è furibonda e decide di parlare. Al Grande Fratello tra Beatrice e Vittorio sembrano essere nate delle piccole tensioni e questa mattina l'attrice ha lanciato delle frecciatine al ragazzo accusandolo d'aver fatto delle scelte sbagliate, ma senza andare nel dettaglio. Poco prima di pranzo, Beatrice decide di sfogarsi con il suo compagno di avventura Sergio. La concorrente del Grande Fratello ha detto di sentirsi molto delusa dal modello con cui in questi mesi ha legato tantissimo. Beatrice avrebbe voluto maggiore solidarietà da parte del ragazzo e afferma che le è dispiaciuto vederlo nelle ultime ore farsi abbracciare e coccolare da Greta e Perla. Mi aspetto un minimo di lealtà e dice con tono molto rammaricato a Sergio, pensando al forte legame che erano riusciti a costruire insieme. Dare il bacino della buonanotte a Perla è troppo per me, ha detto Beatrice Luzzi all'amico Sergio lasciando intendere di voler prendere le distanze da Vittorio. Per Beatrice, Vittorio non è corretto e sincero come pensava, vederlo rapportarsi a inquilini con i quali ha avuto tante liti e dai quali ha ricevuto pesanti critiche la fa stare molto male. Non prende posizioni, non è la prima volta che si comporta in modo ambiguo, sono stufa e basta e ha detto a conclusione del suo sfogo mostrandosi particolarmente amareggiata. Fiordaliso ha invitato la sua compagna a parlarne con il diretto interessato e a chiarire con lui ogni possibile malinteso, ma Beatrice, almeno per il momento, pare non averne voglia. Nelle scorse ore, dopo un confronto non privo di difficoltà, Vittorio ha fatto sapere a Beatrice la sua avversione per le discussioni e il modo in cui si confronta con gli altri coinquilini. Menozzi ha quindi sottolineato l'importanza dei suoi spazi personali e ha anche svelato la sua opinione riguardo Perla-Vatiero. Ma com'è andata la questione di Greta che informa subito Perla? In sintesi avrebbe già saputo di Beatrice. Dentro la casa del grande fratello qualcosa di molto importante bolle in pentola. Nella prossima puntata di lunedì ne vedremo delle belle. E, di più, ci sarà un'eliminazione. Il televoto di mercoledì scorso che vedeva Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio Dottavi protagonisti è servito, infatti, a decretare il preferito del pubblico. A conquistare il titolo è stata Beatrice Luzzi, il meno votato è stato Federico Massaro che finisce in nomination insieme a Fiordaliso, Monia Laferrera, Perla-Vatiero, Sergio Dottavi e Stefano Miele. Uno di loro uscirà e gli occhi sono tutti su Perla-Vatiero al centro della faida con Beatrice Luzzi che sta spaccando il pubblico. Intanto il grosso dei telespettatori è dalla parte di Beatrice, il GF vergognoso che pubblica solo quello che riguarda Bea peraltro sempre montato ad hoc, lo specchio del disagio di quest'anno. Bea ha difeso Vittorio sempre anche quando le davano tutti addosso. Vittorio piangeva quando è uscita. A questo punto era vero? O era strategia? Si legge sui social. Nelle ultime ore la polemica tra Beatrice e Perla si è arricchita di un nuovo capitolo. Nel filmato si vede Greta parlare con Perla e dire, il distacco è iniziato. Qualcuno ha affermato che si sta riferendo a se stessa perché l'attrice non le ha parlato dopo la diretta di lunedì scorso. Inoltre l'ex di Temptation Island l'avrebbe sentita parlare alle sue spalle. Ma non è la sola versione. Altri utenti credono che Greta stia parlando di Vittorio Menozzi, il rapporto di Bea con il quale sembra essere arrivato ai minimi termini. Meglio per te, dice Greta forse riferendosi alla simpatia molto particolare tra Greta e Vittorio. Il popolo del web che incolpa Perla e le sue amiche di tutto ciò. Da giorni viene affermato che l'avatiero sta cercando di mettere zizzania tra i due. Idea che sembra confermata da una serie di commenti. Si legge a tal proposito, Perla e Greta sono riuscite nel loro intento ossia allontanare Vittorio e Beatrice e rovinare la loro amicizia perché non mettete anche il video in cui poco fa in giardino Greta e Perla dicevano che il distacco c'è stato. Perché mettete solo video per permettere alle invasate di vomitare ancora più odio su Beatrice. E infine, Fiordaliso che è letteralmente fuori di sé e urla contro tutti. Furia totale di Fiordaliso al grande fratello, infatti la concorrente ha deciso di alzare la voce per farsi sentire da tutti gli altri. Mentre erano riuniti attorno al tavolo per la consumazione del pranzo, lei si è messa in piedi e si è lamentata per ciò che ha scoperto in questi giorni. Ormai è arrivata al limite della sopportazione e quindi ha chiesto un cambiamento repentino nei comportamenti. Fiordaliso ha raccontato infatti cosa è stata costretta a fare per molto tempo nella casa del grande fratello, a causa della scarsa collaborazione degli altri geffini. Tutti dovrebbero aiutare e mettersi a disposizione, invece la cantante ha notato un certo grado di menefreghismo. E allora ha posto l'attenzione su un tema, che era diventato predominante anche nelle scorse settimane. Purtroppo Fiordaliso si è resa conto che la pulizia nella casa del grande fratello scarseggia notevolmente, quindi il rispetto delle regole non ci sarebbe affatto. Infatti, durante il suo discorso ha esordiato in questo modo, qui siamo ospiti e il rispetto per questa casa non c'è. Ha poi fatto un accorato appello agli altri geffini, i quali l'hanno ascoltata silenziosamente, affinché si possa cambiare registro. La cantante ha concluso così il suo duro intervento, che si è posto l'obiettivo di strigliare i concorrenti e di farli comportare in modo differente, Comportiamoci in una maniera civile, ci ho messo un'ora questa mattina a raccogliere tutta la sporcizia. Non è possibile. Lei ha gridato per farsi sentire il più forte possibile, mentre tutti gli altri hanno semplicemente annuito preferendo non intervenire. C'è chi ha commentato sul web in modo ironico, anche se non troppo. Se Fiordaliso viene a sapere che il macellaio si slinguazza i mestoli e poi li infila nelle padelle per girare il sugo, fa una strage in quella casa.